a me non piace tanto la bruschetta con i funghi era buona però non erano dei funghi importanti non so se non ci facciamo fare i carciofi sì i carciofi, quelli con l'acqua con la burrata fresca messa al centro fresca messa dopo pochissimo ma cos'è? basta però qua i pacchi tu cosa mangi? un fricandolo un fricandolo un fricandolo? un fricandolo